Non accennano a diminuire i venti di guerra che soffiano da Oriente ad Occidente e che obbligano di fatto ad essere sempre pronti e preparati ad ogni evenienza in ambito militare. E cosa c'entra quindi il Friuli Venezia Giulia? Potrebbe chiedersi qualcuno. C'entra e come, visto che ad Aviano, come noto, si trova la base aerea americana e sia ad Aviano sia nella base di Spangdalem in Germania, si sono svolte delle esercitazioni denominate Radiant Falcon per preparare gli aviatori dei caccia F-16 ad un possibile scenario di attacco nucleare in particolare per simulare l'esposizione dei piloti stessi alle radiazioni dopo un attacco con armi nucleari tattiche. L'esercitazione, come riporta Stars and Stripes, prevedeva delle lezioni in aula seguite da una prova generale con il personale che ha indossato tutte protettive gialle, guanti e maschere antigas. In questo scenario gli avversari avrebbero ipoteticamente usato armi nucleari tattiche contro gli alleati e una missione di F-16 di contraattacco sarebbe in questo caso potuta volare attraverso materiale radioattivo, ha spiegato Joe Pozacek, uno dei due istruttori. Tra i circa 30 aviatori che hanno partecipato alla simulazione c'erano soccorritori, personale medico, rifornitore di carburante, addetti alle attrezzature aeronautiche e alle manutenzioni che hanno imparato come ricevere e rilanciare in sicurezza. Un velivolo esposto alle radiazioni. Per garantire ovviamente la massima sicurezza sono state usate tutte le precauzioni del caso, in particolare l'uso di dosimetri personali elettronici nelle tute per monitorare l'esposizione individuale alle radiazioni. L'obiettivo era quello di controllare lo stato di salute del pilota e garantire la protezione di tutto il personale che poi si è occupato della decontaminazione dell'aereo. Le esercitazioni in ogni caso non sembrano essere terminate. Gli istruttori hanno infatti in programma di condurre un addestramento simile presso la RAF Lake & Heath in Inghilterra tra maggio e giugno.